Ciao ragazzi, faccio due passi qui vicino al castello, è incredibile come sia rilassante, proprio non solo c'è quest'area fresca, pulita, siamo in collina, ma c'è una pace che è veramente incredibile. Adesso siamo quasi al tramonto, se ci riesco vi faccio vedere qualcosa, vi faccio vedere il tramonto, qui siamo proprio in mezzo agli ulivi, sentite gli uccellini forse sullo sfondo. Vabbè, io voglio raccontarvi una cosa che mi è successa oggi pomeriggio, sono andato al cinema, qui c'è un paese qui vicino, siamo a tre chilometri da qui, vado al cinema, avevo controllato il sito del cinema e c'era lo spettacolo alle 18 e 15, vado lì, sto per comprare il biglietto e mi dicono che non c'è il film, mi dicono che c'è un evento privato e quindi niente film. Allora io gli ho detto ah ok, va bene, sul sito non c'era scritto niente e il tipo alla biglietteria mi fa eh sì, è colpa mia, ho sbagliato, dice mi dispiace, voglio farmi perdonare e mi dà questo ingresso omaggio, ingresso omaggio, cioè un biglietto gratis praticamente per tornare al cinema. Questo è radice lunga sulla gentilezza delle persone che vivono qui, sono persone molto semplici, molto veramente cordiali, sembra quasi non sia vero alle volte. Comunque vabbè tutto molto bello e come promesso adesso vi faccio vedere il tramonto. Eccolo là il tramonto, guardate che bello, veramente incredibile. qui ci sono tantissimi olivi, c'è tanta campagna, si produce tanto olio d'oliva, tanto vino, ma soprattutto si produce una bella atmosfera di pace. E io adesso continuo a farmi la mia passeggiata, non c'è veramente nessuno, sono da solo. Ogni tanto c'è qualche gatto che mi fa compagnia. La prossima volta che vedo il gatto che viene sempre a trovarci faccio un video. A dopo ragazzi. stasera iniziano gli europei. C'è la prima partita, gioca l'Italia. Questa è l'inaugurazione. stasera c'è l'Italia, Turchia. Quindi sai come si dice in questi casi? Forza azzurri. Forza azzurri. Forza azzurri. Dai, forza! Se gioca l'Italia contro la Russia, tu per chi fa il tifo? Indovina. Per l'Italia? Certamente per ti no. Come no? Tifi per la Russia? Certo. Tifi per la Russia? Forza azzurri. Forza azzurri. Ragazzi, l'Italia ha appena segnato il terzo gol. Mi dispiace per la Turchia. Scusate amici turchi, mi dispiace davvero. Però sono felice per l'Italia. Anche Marina è un po' triste per la Turchia. Però dai, forza Italia, forza Turchia e speriamo bene per il resto dell'europeo.